E' partito il nuovo collegamento ferroviario della Stiria in Austria con il Molo VII del porto di Trieste, gestito da Trieste Marine Terminal. Il servizio inaugurato al Mountain Terminal di Kaffenberg è stato attivato con RHI Magnesita, azienda austriaca, leader mondiale nell'industria dei refrattari, materiali utilizzati nei processi industriali ad alta temperatura, ovvero quelli che consentono di lavorare la produzione di cemento, acciaio, calcio e vetro, mantenendo resistenza e stabilità a temperature che superano i 1200 gradi. Il nuovo servizio, con il primo treno già partito per Trieste, è frutto della collaborazione di Midway Italia Medlog sul fronte italiano e del Terminal di Mountain con la società logistica InnoFlight e la società ferroviaria EcoRail sul lato austriaco. Il materiale raggiungerà le destinazioni in tutto il mondo via container, riducendo di circa una settimana il tempo di transito attuale. Finora i prodotti di RHI Magnesita venivano trasportati su camion a depositi temporanei e poi su strada ad Anversa, Rotterdam e Capodistria. Il materiale grezzo verrà trasportato su carri speciali, mentre la nuova linea potrebbe a breve espandersi sia come frequenza, attualmente settimanale, che con nuovi clienti provenienti dalla stessa area industriale della stiria austriaca. RHI Magnesita è un'azienda che impiega circa 13.500 persone in 33 siti di produzione principali, più 70 sedi commerciali.